Eccoci qua, ciao Mario. Ciao Michele. Bentornato, buona domenica. Grazie, anche a te. Lo mettiamo di lunedì, ma lo registriamo. Sì, sì. Allora, Mario, mi hai iscritto mandandomi un'idea della nostra chiacchierata. L'ho guardata, mi sembra eccezionale. Quindi, quello che farò adesso è mostrare, mostrare, vedendo il pappetto che devo fare, il regista, non sono molto bravo, mostrare il titolo del tema della chiacchierata. Eccolo qua. Eccola qua, bellissimo. No. Disicoglianza e iniquità sociali, sfide per il futuro. L'Inps è diventato il ministro. Poi è diventato il demiurgo della coesione sociale italiana. Bellissimo. E che ha detto? Perché tu l'hai guardato. No, diciamo che, allora, facciamo un piccolo cappello introduttivo. Chiunque guidi l'Inps in tempi recenti vede l'Inps come un demiurgo della coesione sociale italiana, perché io mi ricordo che Tito Boeri disse che gli sarebbe piaciuto ridenominare l'Inps in Istituto Nazionale della Protezione Sociale. Vale, neanche lui se l'ha tirato indietro, insomma. E' abbastanza suggestivo. Invece vedo che Tridico, che è l'attuale presidente per quei due o tre gatti che non lo sapessero, punta molto più in alto, punta, diciamo, a fare dell'Inps la longa manus di tutto un ricco corpus dottrinario di stampo keynesiano sovranista e soprattutto, come dire, anche con una discreta dose e dote, diciamo, di propaganda. Infatti qua bisogna citare il convitato di pietra di questo angolo di fastidio che è il grandissimo Luciano Capone, che appunto ha scritto e scrive da molto tempo riccamente sul cursus honorum del presidente attuale dell'Inps, che ha scritto un bellissimo articolo, un cito in settimana, dove praticamente ribadisce molti dei punti del repertorio di Tridico. Però... Certo. No, Luciano va detto, si è specializzato poi nel fare, molto attentamente, nel debunking dei comizi. Sì, sì. Le azioni tecniche non sono dei comizi di questi signori, come dire, di seconda fila, ma neanche tanto, che il duetto al governo ha piazzato a gestire le maggiori agenzie del paese. Certo. E' questa dell'Inps. Tra l'altro, diciamo, Luciano ha coniato l'acronimo Istituto Nazionale della Propaganda Sovranista, per cui è stato ancora più immaginifico. Però se noi scorriamo rapidamente le slide... Perché allora, vediamo, è partito con due slide, io sono qua mostrando le slide, ma dimmi tu. Ma guarda, io... Andrei, andiamo alla pagina 5. Perché qui ha dei dati normali, insomma. Sì. A pagina 5 c'è uno dei punti... Si sarà assegnato il merito, perché questi lo chiamano merito, della... Sì, sì, ma diciamo che vengono assolutamente... Questo grafico che stiamo vedendo viene imputato, ovviamente, al decreto dignità e si viene considerato... Un fenomeno è iniziato circa un anno prima della messa in atto. Sì, assolutamente, ma comunque ribadiamolo che non guasta. L'aumento dei contratti a tempo indeterminato è la risultante di tutto quello stock di contratti a tempo determinato che sono giunti a scadenza e a un certo punto le aziende hanno dovuto scegliere chi stabilizzare per forza e hanno stabilizzato quella quota di lavoratori che ritenevano importanti in termini di skills per il proprio investimento in capitale umano. Tutti gli altri vanno incontro ad un grosso churning, cioè ad un grosso turnover, nel senso che molti di loro usciranno, poi rientreranno, ne verranno assunti altri, resteranno nel limbo del tempo determinato. Questa qua sulla quota dei salari, sai cosa vuol dire quando dice corretta? Perché sai, come al solito, quando non spiegano cosa c'è, mettono delle parole, c'è sempre un trucco. No, esatto, forse è una revisione della serie storica, ma onestamente bisognerebbe guardare il testo della relazione. Quindi sai, dipende, se hanno tolto le imposte indirette in Italia, sono una cosa sostanziale. Esatto, però se tu guardi, se vai indietro a pagina 5, c'è il grafico che mette in raffronto la media delle ore lavorate. Ah, questo ti interessa. Esatto, questo non mi interessa perché questo è un antico pallino, diciamo, un antico saling point di Tridico, perché Tridico nella sua relazione dice che è giunto il tempo di fare una riflessione proprio riguardo quello che vediamo graficamente rappresentato qui, cioè il fatto che l'Italia è uno dei paesi che ha il più alto, la più alta intensità di ore lavorate e il più alto tasso di disoccupazione. Pertanto bisognerebbe a suo giudizio fare una riflessione sulla necessità di ridurre le ore lavorate. Io ho l'impressione che... E' un altro del lavorare meno... Sì, è un altro del gruppo dei masi, no? Quindi lavorare un accidente, lavorare tutti e magari non essere pagati. A parte che i tassi di disoccupazione italiani e spagnoli, per esempio, non sono confrontabili. Esatto, esatto. L'italiano ampiamente sottostima la disoccupazione rispetto alla Spagna, che invece ha ampiamente la sovrastima. Ma andiamo avanti. Eh, lo so, qui però sai, hanno usato il database dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che quindi hanno usato la base... Prende quelli nazionali e ognuno fa come vuole, ma non riescono a capire che questa curva è spiegata banalmente dalla... Produttività. E' una misura, come dire, no? Dello stato di avanzamento tecnologico di ogni paese. Certo. Non a caso la Grecia batte tutti. Ma infatti, infatti, cioè... Se secondo lui la disoccupazione in Grecia diminuirebbe drasticamente se i greci lavorassero come i tedeschi. Se i greci lavorassero probabilmente intorno alle 1350 ore annue, probabilmente la disoccupazione greca collasserebbe, perché abbiamo questo importante modellino bivariato, no? di correlazione spuria che penso che si potrà insegnare... Lavorare meglio lavorare tutti. Esatto, esatto. Per cui... C'è una lotta comunista, lo sa, Tridico. Ah, ma no, lui viene da lì, eh. Tra l'altro, senti, tra l'altro si ribadisce qui che, come dire, c'è un aspetto che bisogna ribadire. Lo hai già detto tu. Forse bisognerebbe guardare il concetto di produttività. Però Tridico appartiene, no, ma non è anche il caso, Tridico appartiene a quella stirpe di economisti, politici, opinionisti, esseri umani, eccetera, che sono convinti che se si tagliasse l'orario di lavoro a parità di retribuzione, quindi se si determinasse un imponente, esplosivo aumento del costo del lavoro, perché non la vedo altro, se non la pure defiscalizzare, non lo so, le aziende sarebbero costrette e forzate a investire in capitale e di conseguenza la produttività si innalzerebbe. Tutti quelli che verrebbero espulsi da questi settori labor intensive in transizione potrebbero prendere serenamente il reddito di cittadinanza. L'impressione è che lui la veda così, non so tu cosa ne pensi. Sì, sì, credo che sia questa la teoria. Però credo che sia anche molto semplicistica, soprattutto per il tessuto produttivo italiano. Ti dirò, io non credo di essere in grado di discutere seriamente scemenze del genere. Lavorare meno, lavorare tutti? Non ci provò Mitterrand. Con risultati catastrofici. Ma Mitterrand tentò anche l'espansione in un solo paese e poi venne travolto, insomma. Quindi, voglio dire, è lì, è lì. Mano a mano che avanza il progresso tecnologico, mano a mano che avanza l'istruzione, mano a mano che le imprese diventano più produttive, si tende a lavorare un numero minore di ore, in media, e avere maggior produttività. Se poi il mercato del lavoro funziona bene, c'è anche minore disoccupazione. Così funziona. È il famoso modello superfisso del buon Sandro Brusco, applicato il numero totale di lavoro e di lavoro che ci possono fare è fisso, determinato da qualche entità divina. Quindi, se io al posto di un professore universitario o di un analista finanziario ne metto due, che fanno ognuno metà ore, poi non ho capito come risolvere il problema dello stipendio. Riducono la disoccupazione, secondo loro. In realtà fanno fallire l'azienda. No, probabilmente mettono una gigantesca patrimoniale per abbattere il cuneo fiscale e permettere che il netto in busta resti invariato. Dai! Sarebbe coerente con l'impianto ideologico, no? Ma c'è nelle slide? No, no, no. È così bella, torno alle slide. Questa è una variabile plug che uso io, diciamo. Però c'è da dire che Tridico è anche... Insomma, mi verrebbe da dire a questi qua, io c'è un teorico eterno del lasciateli governare, perché voglio vedere il disastro. Lo facessero, cioè davvero, riducessero... Ma no, certo, certo. Imponessero ad arbitrio un orario di lavoro di 36 ore con i commissari politici fuori dagli uffici, che si vedono Mario che lavora 42 o messe per quello. Gli mettono la multa e poi vediamo cosa succede. Chiaro. Però, guarda, c'è anche un'altra delle previsioni di Tridico. Tridico era il teorico del reddito di cittadinanza, inteso come quella cosa che avrebbe aumentato il PIL potenziale, per effetto del fatto che tutti si iscrivevano al collocamento, e in questa maniera sarebbe aumentato l'output gap e l'Italia avrebbe potuto fare un maggior numero di spesa in deficit. Ah, sì, sì, questo l'abbiamo commentato anche con i compari delle chiacchierate. Assolutamente, perché lui se ne fregava dell'isteresi e di tutto il resto. Per lui era sufficiente fare deficit e tutti i relitti si innalzavano dal fondale marino. E infatti, a sempre a proposito della propaganda, sì, però non si sta verificando, perché noi non notiamo un innalzamento del tasso di disoccupazione. Forse è presto? Forse è presto. Forse non si sono ancora iscritti, stanno aspettando i navigator. Beh, i famosi navigator, devo dire che loro stanno lavorando, ma questo ti porto fuori traccia, cioè un giorno dovrò dedicare un po' di attenzione a questa cosa, perché vorrei verificare se i numeri che girano sul numero di assunzioni nel settore della pubblica instruzione sono veri. Se sono netti o sono lordi al netto del pensionamento, quando è l'effetto di quota 100. perché se sono veri, insomma, 200.000 quasi assunti sono tanta roba. in un mercato del lavoro i 23 milioni, dove l'occupazione pubblica, diciamo così teorica, quella dei funzionali di 3 milioni è 300.000 solo, no? Cioè, tanta roba. A direi proprio di sì. È un 6%, 7%, in un anno solo è tanta roba. Sì, ma secondo me rimarrà, come dire, nel libro dei sogni questo numero. Perché poi hai visto che adesso stanno diventando molto docili sul piano dei conti pubblici, no? La flat tax. Sì, sì, ho visto. È diventata un'incrementale su tutto quello che c'è del reddito dell'anno scorso, un importo stimato di 2 miliardi. Ma dai, torniamo a Tritico, perché adesso io finché... Se vai a pagina 26... Pagina 26. Vedrai che lui ci mette anche dei numeri che sono, almeno per due bullet su tre, sono tratti dal DEF, però se li tiene buoni. Dove è la pagina 26, 22, 30. Impatto macroeconomico del reddito di cittadini. Continua a difendere estrenuamente. Cioè c'è questo più 0,2 di impatto del reddito di cittadinanza. Che lui sostiene che il reddito di cittadinanza ha avuto un favoloso impatto sulla crescita. Questo è il DEF, questo è il DEF. Vedi i primi due bullet, sono i ragambi del DEF. E poi c'è questa cosa dal libro dei sogni, no? L'impatto di medio termine associato al potenziamento dei centri per l'impiego da 0,74 a 1,57, per cui noi innalziamo la pendenza del PIL. Naturalmente questo è presente nel DEF, non se l'è sognato lui e pertanto lui cita numeri di altri. Dove invece non mette la fonte nel terzo bullet. Crescita, che questo è il suo darling. Il suo cavallo di... Lui ha trovato il trucco per farci fare più debito. Lui e il suo pet project è crescita PIL potenziale, ampliamento dell'output gap possibile tra 0,7, 1 e 4 e conseguente aumento dello spazio fiscale. Qui l'uscita della fonte. L'unica per lo mio la odio. Spazio fiscale. Cioè si traduce in fare più debito pubblico, per fare più reddito di cittadinanza. Sì, sì, assolutamente. Poi però, diciamo, c'è anche, al di là di questi momenti, il punto che interessa molto anche a me in quanto, come dire, portfolio manager, operatore di risorse finanziarie, eccetera, è la proposta un po' fuori sacco che ha lanciato Tridico che è quella di fare dell'Inps il gestore del secondo pilastro previdenziale. Quindi di creare un fondo Inps che sarebbe praticamente a capitalizzazione a questo punto, no? E metterlo in concorrenza con i fondi pensione aperti e con i fondi settoriali che sono quelli quindi tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Per parole di Tridico, canalizzare gli investimenti verso l'Italia oltre che con la necessaria prudenza gestionale. Io questa cosa l'ho già detta, continuerò a dirla. Canalizzare gli investimenti sull'Italia e mantenere prudenza gestionale sono due cose che non si conciliano. Perché se tu canalizzi gli investimenti sull'Italia aumenti la concentrazione del rischio. Quindi c'è questa scuola di pensiero tale per cui... È un vincolo di portafoglio, no? Diciamola tutta. È un tentativo di repressione finanziaria, un vincolo soft, non hard, per fare convogliare o anche per sostenere, per creare una corrente di acquisto di debito pubblico. Questo lo stiamo dicendo da tempo. Allora c'è tutta una parte di quel mondo oggi è il potere e non solo di quel mondo perché è una roba antica. No, è antica, è antica. Antica, viene da Tremonti. È una cosa tremontiana questa. Esatto, bravi. Repressione finanziaria. Ho scoperto che quell'alfiere di Tremonti è rimasto con grande potere al sole in tal forti. Si è un altro dei tanti che si autoproclama docente universitario senza essere altro che uno che ogni tanto fa lezioni in un'università a contratto. Vabbè, niente, mi è venuto in mente perché... Beh, tu sai che in Italia abbiamo una robusta tradizione di professori a contratto. Sì, sì, e si autotutti proclamano ricercatori, docenti universitari, eccetera, eccetera. non il coraggio di scrivere quello che in realtà sono. Vabbè, dei professionisti che fanno un altro lavoro e ogni tanto... Sì, sì, infatti... In realtà anche dei professionisti nel loro... No, no, chiaro, chiaro. Devono tutti essere in Italia e abbiamo un numero di professori universitari a guardare il curriculum vita infinito. Vabbè. Poi è interessante questa cosa perché prima si cerca di sparare sul quartier generale che è l'accademia dopodiché si cerca disperatamente di avere il bollino di un'accademia. Oh, assolutamente. C'è un desiderio di autoproclamarsi tale tremendo, no? E' la sostituzione dell'elite. Sì, sì. Questi ultimi anni lo zoo sovranista è stato il massimo. Sono tutti che vogliono fare i professori. Borghi, Rinaldi, tutti. Vabbè, ma torniamo a bomba. Sì, sì, questa è un'antica idea, tremenda idea, una delle peggiori contributi di Tremonti che è il padre del sovranismo. Dovrebbero fare il primo ministro. Io non so perché abbiano preso Conte. Lo dico seriamente. Perché abbiano preso Conte il primo ministro di Costoro. che ha nel suo pensare, nel suo quasi distruggere l'Italia, c'erano i semi, ma neanche tanto i semi, c'erano proprio le pianticelle di tutto ciò che Costoro oggi dicono. Non cercano di fare, c'era l'antiglobalizzazione, il rifiuto del commercio, il protezionismo, l'idea che il debito pubblico è assicurato dal debito privato, la centralità dello Stato, le nazionalizzazioni, cioè tutto questo c'era. No, no, ma infatti noi non stiamo inventando nulla, stiamo semplicemente tentando di riprodurre in maniera sguaiata, popolana, perché popolano è il codice di comunicazione, anche se poi alla presidenza del Consiglio non c'è un popolano per modi e maniere, di quello che sentiamo da almeno un decennio, cioè da quando questo paese ha cominciato ad annaspare, a cercare disperatamente l'ossigeno, a negare altrettanto risolutamente la realtà, cioè che si tratta di un paese che ha una struttura produttiva che sta decadendo per effetto di una gestione assolutamente bancarottistica della politica economica o comunque di profonda ignoranza della politica economica, il tutto con una demografia ripetita che ci sta fottendo. Però siccome tutto si tiene, loro pensano che avendo messo alla guida dell'Istat un illustre demografo diciamo sulle soglie della pensione... Ma se perfino lui il portocollo ha ammesso che il problema... Esatto, esatto, quello volevo dire. Cioè lui stesso... Ma poi che tu dica siamo in recessione demografica, siamo in catastrofe demografica, mi devi spiegare cosa avviene dopo. Perché se... Queste sono cose che si risolvono nel lunghissimo periodo, nel senso solo se tu fai un turnaround, nel senso che se crei valore aggiunto, se il paese cresce, se modifichi il welfare, eccetera. Ma se tu pensi di mettere, di risolvere questo problema con i buoni bebeo per comprare i pannolini, sei ancora più coglione di quelli che ti vengono dietro. Parole santi. Parole santi. Non fai altro che creare... Ha fatto una battaglia da due decenni. Sì, ma... Scusi, sono soluzioni... C'è già. Certo, ma è ovvio. È ovvio. Quindi non è neanche necessariamente colpa del governo protempore. Ma no, ma no. Perché la tendenza di fondo... Il governo protempore può... Tutti i problemi strutturali che sono lì dagli anni 80. Resta da capire, però, se tu operi... Anche ormai, la responsabilità dei governi è di averli regolarmente negati anno dopo anno, quinquennio dopo quinquennio, alcuni averli addirittura peggiorati, senza far l'elenco, e di quello attuale di essere... di avere il record nel negazionismo dei problemi, nell'attribuzione ad altri di responsabilità, eccetera, eccetera. No, certo. Sono certo creati da Di Maio e Salvini. Loro li aggraziano. No, 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 no. Loro sono semplicemente la forma deformante pre-terminale di una certa comunicazione politica. Esatto. Ma loro sono i figli di Tremonti, sono i figli di Berlusconi, sono i figli di De Mita, sono i figli di Craxi, sono i figli di tutta questa gente che alla fine potremmo anche andare indietro, eh, potremmo anche andare... Sì, sì, sono assolutamente... Cioè, c'è assoluta continuità. Per questo io guardo con tenerezza quando il vertice pro-tempore del Partito Democratico si mettono a scimmiottare i gialloverdi, ma anche sui social mandano avanti... Cioè, gli hanno rubato la parola, capito? Dio, cazzo, questo mi ha superato, dice le stesse cose che volevo dire io, solo che le dice di più e più sfacciatamente. Sì, il problema è che questa è una gara a bimbi minchia in un paese che ha un'età mentale da bimbi minchia, quale sarà mai l'esito, quale sarà mai la prognosi? Questo è il problema, diciamo. Poi, alla fine, è chiaro che ogni casella ha il personaggio che la interpreta. Tridico è una interessante sintesi keynesian-sovranista, dove keynesian, all'italian, diciamo, e sovranista, è questo contenitore jolly di tutte le cazzate anti-globalizzatrici che stanno a sobollire nel povero calderone italiano mefitico. Per cui, cioè, sono personaggi che sono così come, voglio dire, in precedenza, avevamo altre parole d'ordine, no? In precedenza, dovevamo avere, come dire, sul piano dei flussi immigratori, non si faceva mai, perché pareva essere vietato una considerazione qualitativa di questi flussi immigratori, no? Cioè, quanto questi flussi sono coerenti con la struttura socio-economica del paese, adesso, la soluzione, ti vengono a dire, siamo in un dramma demografico, consideriamo anche quanti italiani emigrano e il livello medio della loro qualificazione. Cioè, questa è la vera tragedia. Finché non riusciremo a invertire, ma non riusciremo a invertire questa tendenza, il paese si depaulea. Il paese si depaulea? No, no, questo è il vero problema di fondo. Torniamo adesso tranquillamente alla relazione di Tridico se hai altre osservazioni. Sì, no, ma è abbastanza... È uno dei problemi di fondo. Io, guarda, oggi, screen share per screen share, forse l'ho già fatto, io mostro sempre, da anni, credo di averlo con Forchielli, quando avevo iniziato a fare i colloqui, era diventato una costante, perché, purtroppo, avevo una visione molto, a mio avviso, insomma, confusa del problema migratorio, immigratorio. E basta andare in un posto che si chiama Demoistat, eccolo qua, non si sei mai stato, perché, guarda, fa paura, ogni italiano dovrebbe studiarsene tutte le mattine, e poi dovrebbe chiedere alla lista per favore di darci i dati esatti della fuga dall'Italia. Ecco, queste sono le tabelle della popolazione residente, e se tu fai così, ce li hai tutti per gruppi di età, ok? Questo, ti rendi conto, non distingue fra nati in Italia, cittadini italiani e residenti, e va anche detto, ma io te l'abbiamo già menzionato, no? Che abbiamo qualcosa come 6 milioni residenti, poveri e disgraziati, che sono cittadini di serie B o C. Bene, ma comunque il punto è solidario di quello, quelli nati, questo è il 2018, anno zero, quindi sono i nati nel 2018, sono 456 mila, questo è un dato, perché questi ormai sono nati, il 18 è passato, non è che adesso facciamo l'assegno bebè e spuntano i bambini, no? Non ci sono. E qua lo vedi il calo demografico, impressionante, guarda male. Sì, sì. Guarda il calo, ogni anno che passa, praticamente quasi ogni anno va in giù, Allora, se uno guarda questo, e dice, ok, questi sono quelli che entrano sul mercato del lavoro fra circa 20 anni. Esatto. Quelli che entrano al mercato del lavoro quest'anno sono questi ragazzi qua. Sì. Tra maschi e femmini sono poco meno di 600 mila. Quelli dell'età mia, diciamo, perché all'età mia in Italia si va in pensione, ok? Sì. Sono questi. Sì. 660. Quindi già così, già così, ogni anno, quanti sono, cos'è la differenza quasi di 200 mila? Sì. No? Sì, sì. Se guardo indietro, se guardo avanti, la differenza è 300 mila. Chiaro. Chiaro. Se poi togli che se ne valgano altri 50 mila di giovani, 60 mila, capace l'anno, o 100 mila, capisci? È un'ecatombe. Sì, sì. E quindi è una cosa che o hai una politica dell'immigrazione pensata, studiata, al di là delle cretinate sui barconi e della violenza sui disgraziati sui barconi, sì, o decidi di chiudere un pezzo di paese. Certo. No, no, è molto interessante questo sito, confesso che non lo conoscevo, metterò un bookmark. No, no, dagli un'occhiata. Cioè, loro ripuono, poi puoi fare, ci sono alcune curiosità, nel caso ti interessi, è stato un periodo che ho cercato di capire perché la differenza di stato civile fra uomini e donne nei gruppi di età tra i 35 e i 50 sia così enorme. Ma non è posto. Cioè, è pieno di uomini non sposati in percentuale rispetto alle donne. Sì, sì. Mi avevo incuriosito, dico, qual è la determinante di questa strana... Ah, ah, è notevole. Capito? Di questa strana differenza di comportamento. Ma vabbè, insomma, comunque è interessante. No, no, ma comunque, allora, mi pare che abbiamo già detto quello che c'era da dire. Cioè, noi siamo un paese che da qualunque angolo lo si volti ha problemi tragici. Perché dico questo? Perché questa crisi demografica dovrebbe indurre in astratto a trattenere la gente al lavoro. Ma cosa trattieni al lavoro visto lo stock di skills, no? che è assolutamente drammaticamente carente ma overall a livello di tutte le corti anagrafiche tu dici me ne libero te ne liberi ti zavorri i costi previdenziali e la fiscalità generale. Cioè, qualunque cosa tu faccia sbagli. Perché? Questa è la demografia. La risposta della politica è stata qualcosa di cortissimo respiro che uno pensa mi stanno prendendo per il culo i vari bonus bebè di cui abbiamo già detto, Cioè, ogni politico ha il bonus bebè poi ogni tanto esce qualcuno più rincoglionito degli altri dice diamo 100 euro al mese per ogni figlio che nasce dopo di che uno fa la somma vengono alcune decine di miliardi ma va bene ecco dove si troveranno e vabbè vediamo andremo a picchiare i pugni sul tavolo a Bruxelles dice qualcun altro ancora più fulminato quindi come vedi ma c'è solo la differenza poi tu ti immagini se una famiglia che ha brutte prospettive o che non è ottimistica esatto si mette a fare il figlio in più con quello che implica anche solo lasciare i soldi bisogno di proiezione emozionale investimento emozionale perché notoriamente i figli li fai quando hai una visione così ottimistica del futuro perché gli hai dato 1200 euro all'anno sì esatto ma è tutto veramente drammatico cioè il modo in cui si ragiona è drammatico così come è drammatico l'orizzonte temporale perché questo paese sta subendo un sistematico depauperamento della infrastruttura sociodemografica che è quello che fa smottare l'infrastruttura economica politica e soprattutto civile tutto si tiene alla base della piramide delle sabbie mobili italiane c'è la demografia ma per invertire la tendenza demografica non servono è una cosa da far tremare le vene ai polsi perché se fossimo così fortunati da invertire la struttura sociodemografica di questo paese attraverso una serie di casualità fortunate ci metteremmo una barra due generazioni per rimetterci in pari assolutamente il problema va posto così esatto va assolutamente posto so che nessuno farà mai politica sulla base di questo no è ovvio figurati se la gente fa politica sulla base di una generazione istituzionale profonda però così è esatto purtroppo lo sto guardando qui di Corsa la relazione di Tridico ed è invece il camuffamento è da un lato il lamento sono capito perché è piaciuto a Luciano che oramai la cultura nazionale è diventata una di vittimini ha ragione ma questo lo dico anch'io da sempre infatti c'è c'è un lamento continuo e una pretesa assurda di trovare soluzione al lamento con i trucchi fra cui questo è il maggior aspio del maggior spazio fiscale è il trucco dei trucchi sì sì però se tu guardi diamoci delle ragioni per sussidiarci ed apparire più poveri così apparendo più poveri avremo la scusa per indebitarci di più questa è la logica del ragionamento Tridico sussidiamoci per apparire più poveri apparendo più poveri potremo indebitarci di più come se chi ti presta i soldi di fronte al fatto che gli hai provato di essere più poveri dicessi ah che bello questo qui sia un buon debitore più povero di quello che pensavo se vai alla slide 14 vedi andamento e concentrazione dei top earner questa è la sezione dedicata alle disuguaglianze questa è molto sottile questa slide perché dietro quello che è una presentazione di dati apparentemente asettica e suggestiva nel senso etimologico del termine nel senso che suggerisce qualche precetto come vedi abbiamo avuto allora primo bullet il primo 0,01% passa al 220 mila 0,01% bisogna ricordarsi è uno su 10 mila si aumenta da 200 un paese di 22 milioni di più o meno 23 milioni di lavoratori ah no questi poi redditi redditi no 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 redditi redditi è la disuguaglianza voglio capire di quanti aumenta da 220 a 533 mila la maniera per dire scusami ma scusami ho una domandina molto banale da lettore stupido ma questi sono valori correnti o concatenati cioè reali ah sono nominali scusami e allora che cosa mi vieni a dire più 242 più 40 anni applicaci un deflattore no così vediamo quanto effettivamente è variata non puoi non puoi nemmeno mettere un disclaimer qui è possibile è possibile presentare 78 2017 sono 40 anni 40 anni più 242 ci sarà una a una media di variazione dei prezzi ma fondamentalmente è passata da 220 a 300 quella roba ci sarà una componente reale e una componente inflazionale una componente reale è passata a 220 20 a 300 ok quindi va bene secondo Bullet il 54% dei top earner è a Milano attenzione è a Milano la famosa città che aspira a diventare città-stato allora chiediamoci visto che stiamo parlando di autonomia eccetera ma non è che qui vogliamo suggerire che c'è il famoso sfruttamento di alcuni centri di potere economico finanziario e danni di tutto il paese ecco queste famose non le famose voglio suggerire quello ma io non so che cosa voglia suggerire invece che sta a Roma se per caso lui non ne fa parte tra un incarico e l'altro senz'altro uno dei non il suo predecessore ma il predecessore del predecessore ci faceva parte sicuramente sicuramente come si chiama molto molto verosimile molto verosimile era un milione con 54 milioni di incarichi oltre al super stipendio del presidente però insomma noto che questa cosa che è uscita ieri l'altro oggi è sulle agenzie e sui giornali perché evidentemente sta iniziando a metabolizzare di straordinario cioè Milano ha obiettivamente la concentrazione delle banche degli altri dirigenti finanziari di un po' di capitale italiano esatto però questi sono i fattoidi sui quali la roba soprendente che si facendo sia a Roma vuol dire che la politica paga bene poi anche le aziende pubbliche la politica è quella roba lì per me cassa depositi e presti è politica certo perché se no paganetto vicepresidente non lo diventava per meriti propri questa a parte ciò ma no l'ho detto io tranquillo torniamo a guardarci in faccia no 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 però questi sono quei fattoidi che stimolano le chiacchiere non da bar ma dai talk politici televisivi di cui siamo assolutamente sommersi e è stata messa lì uno dice beh perché io l'ho messa lì perché è oggettiva che Milano è il 54% dello 0,01% quindi degli ultra privilegiati questo secondo me è la cosa fatta cadere very timely in questo momento in cui si discute di autonomia non sto parlando non sto dicendo che progetti non lo so io penso male faccio peccato ho smesso di confessare il messimo lamento a parte che io questa cosa dell'autonomia da quello che ho capito da vari tweet del buon Dario Stavano per darmi intervistare per imparare da come descrive lui i famosi nordici la stanno prendendo là dove non batte il sole una volta grazie ai giochetti del loro leader e rappresentante Salvini Matteo ma bisogna dirlo a Zaia questo si agita e anche a Fontana credo che si tratti senz'altro di dirlo a Zaia perché mi sembra che Zaia si stia giocando il suo desiderio di apparire molto su su questo certo ma al di là di questo io vorrei capire qual è la logica secondo cui se Milano piuttosto che Bologna piuttosto che Firenze o fai tu Parma a Piacenza a Vicenza hanno un reddito per capita più alto e la gente lavora di più le industrie sono più dovrebbero sentirsi colpevoli di questa di questa vicenda dovrebbero stimolare il senso di colpa ma perché non so diciamo che questo fa parte di un impianto ideologico anche questo a somma zero e superfisso dove si ritiene che la prosperità di una determinata area geografica si realizzi attraverso lo sfruttamento delle aree che restano indietro già Brodel parlava di questo nella sua teoria dei cerchi concentrici per cui mi pare che lui sia uno di quelli che hanno informato il pensiero della sinistra ai suoi tempi aveva anche ragione in epoca tardo medievale o in epoche coloniali posso anche capirlo no? esatto quando la ricchezza era espropriazione terra frutti da lavoro mi portavo via c'era anche una dimensione di verità senz'altro no? fra la ricchezza di alcune città e che so se sto pensando alle zone del latifondo previo del meridione italiano chiunque abbia visitato la Sicilia il filo di Sto della Puglia trova città stupende palazzi stupendi so Lecce e attorno campagne desolate da cui il potere feudale latifondista latifondiario espropriava questo è senz'altro vero oggi in che senso beh guarda ci sono la gente di Motor Valley in provincia di Modena e Reggio espropria qualcosa da chi vive in Basilicata? ah no infatti infatti probabilmente è l'evoluzione ma però questo vale anche per i cluster geografici americani tech no? voglio dire certo l'esplosione il fatto il fatto che San Francisco e quelle aree abbiano un'esplosione di homeless che si tende a ricondurre al fatto che gli affitti sono insostenibili bisogna anche si attra bisogna fare qualcosa eccetera eccetera anche questa teoria dei cluster però sull'Italia vai un attimo alla slide indietro di quella lì la 13 da dove provengono i working rich? in questo caso abbiamo la definizione operativa il working rich è uno che ha più di 97 mila euro il working rich ammazza oh rich cioè vabbè comunque non importa non facciamo dell'ironia no però vedi che c'è quasi un 19% dei dipendenti pubblici mega male i famosi top earner di Roma 16% di top earner italiani ecco questo è un altro dato che è abbastanza interessante è scarsamente informativa anzi direi che questa cosa se devo decidere se questi sono i top earner italiani ma poi con quella soglia con quella soglia oltre 97 mila in Italia dove ti metti nel top 1% nel top 3 non lo so non vorrei mai che li mettesse nello 0,01 in base alle dichiarazioni dei redditi no no l'ha messo prima lo 0,01 è mezzo milione ok quello è uno su 10 mila uno su 10 mila è mezzo milione quindi questo è un allora ecco qua P99 P99 dinamiche percentili delle attribuzioni sì la slide precedente sì sì la vedo ce l'ho davanti facciamo vedere anche a chi ci ascolta così capisco una cosa diciamo eccoci qua questo dovrebbe spieghiamo anche i percentili ah no questo è rispetto dov'è al 100 quindi è tutto normalizzato nel 75 a 100 sì e spero che questi siano termini reali però lo spero anch'io guarda vista l'estensione che è più di un quarantennio dai dai sì però non ci permette di capire chi sono la soglia del 97 però io oserei scommettere che questo soglia del 97 mila come reddito annuale lordo sia l'1% almeno dalle dichiarazioni dei redditi sì dalle dichiarazioni dei redditi mi pare che sia può essere l'1% poi si può anche ricostruire sì vogliamo provare e quindi devo dire adesso non so cosa voglia dire collaboratore cos'è un collaboratore secondo te sai che non ho idea saranno lavoratori autonomi che prendono saranno i co-co-co diciamo di alto di alta di alto livello strana dicitura esatto qui io direi che ciò che è significativo è che il numero di professionisti la percentuale di professionisti sia così bassa sì esatto esatto visto come è fatto la redditualità in Italia come è fatta e visto chi trovo quando vado nei posti di vacanza comunque questa è attualmente è l'Inps io non voglio avere un presidente dell'Inps che sia un contaffagioli o diciamo un contabile o cose del genere perché è una visione sociale a una cosa che si chiama istituto nazionale di previdenza sociale è connaturata però come dire ho l'impressione che qui è grazie al decreto dignità è grazie a questo è grazie a quello poi spinge il salario minimo nella conformazione suggerita soprattutto da chi vuole portare questi 9 euro orari eccetera che porterebbero una devastazione da una decina di miliardi che loro vogliono compensare col taglio del cuneo fiscale mi pare come dire un'agenda ecco la descrittività del rapporto Inps è quasi perfettamente sovrapponibile all'agenda di governo e in preminenza all'agenda gialla quindi può essere omogeneità ideologica non facciamo le verginelle però metodologicamente mi pare come dire che veniamo da un'era di maggiore sobrietà sotto la gestione Boeri si si Boeri aveva migliorato di molto beh qua l'impostazione è completamente opposta si questo è proprio è completamente ecco è un movimento a testuggine con l'agenda di governo io devo dire però è significativo cioè che Boeri e Tridico sono entrambi che vengono dal mondo della sinistra italiana uno dalla sinistra che si è evoluta e ha provato in maniera molto parziale a fare i conti con la realtà del mondo e buttando via alcune ideologie questo è Boeri in questo punto si è reso conto si è reso conto della funzione dell'eteria che il sistema pensionistico ha svolto nell'economia italiana la società italiana è un fattore di diseguaglianza e distruzione del tessuto sociale e Boeri e l'altro invece ha deciso di spostarsi dall'altro lato di trasformare il suo come dire marxismo che è in esismo della magna grecia sì che è in esismo marxismo in questa cosa strana che è il sovranismo versione 5 stelle quindi tutta questa relazione qual è stato il messaggio se posso chiederlo perché io non ho ascoltato tu se avrai il messaggio di fondo qual era? beh che la strada che stanno percorrendo secondo me a livello di programma di governo è quella giusta per contrastare le diseguaglianze la povertà assoluta e relativa e tutte le torsioni che l'era neoliberista ha inflitto a questo povero paese secondo me il messaggio chiaramente è questo qui era quello cioè l'era neoliberista sarebbe quella roba di Renzi e Gentiloni se capiscono l'era neoliberista degli ultimi ma diciamo l'era neoliberista ulteriormente amplificata dalla grande recessione diciamo post 2010 naturalmente in un paese che intermedia oltre il 50% di PIL attraverso il suo stato ecco questo è proprio un'era liberista queste cose ne mandano ai matti queste cose e che quindi gli effetti gli effetti secondo me lui vuole come dire perseguire questa idea che bisogna non si parla di una spinta alla crescita secondo me qui siamo ancora fortemente arcaicamente nel campo della redistribuzione non del movimento rettilineo dove tu avanzi e cerchi anche di redistribuire mentre avanzi io qui vedo una grande enfasi sulla redistribuzione a deficit perché i loro signori sono convinti che come dire con i loro moltiplicatori ci si possa sollevare da terra tirandosi per le stringhe qui non sono questi non sono più quelli alla Bertinotti o alla Ferrero che dicono adesso facciamo una patrimoniale di quelle del 40% degli averi e facciamo salire tutti questi sono in pochi a dirlo in quell'ambito lì forse Tridico sarebbe uno che si è lasciato parlare lo direbbe però secondo me loro hanno questa fascinazione per cui loro non mettono le mani in tasca questa odiosa frase agli italiani perché sono convinti che facendo più deficit ci sia la fatina del dentino e la fatina del moltiplicatorino quello che praticamente te lo fa esplodere e fa ripagare tutto quindi questo secondo me è il discorso se tanto mi da tanto la relazione del prossimo anno potrebbe essere quella del risveglio però diranno che sto rosicando per cui non lo dirò che quella relazione del prossimo anno potrebbe essere quella del risveglio beh quella di fine anno non del prossimo intendi beh la prossima relazione sì certo però le relazioni sì sì certo la stagione delle assemblee annuali e delle relazioni annuali come ben sai si colloca tra le considerazioni finali del governatore il 31 maggio e il rapporto annuale Istat a metà luglio scusami IMS a metà luglio per cui si tirano le somme così però vediamo la legge di bilancio come sarà bene a fronte di questo delle quattro relazioni esaminate in queste ultime settimane direi che il quadro è completo perlomeno la coalizione di governo ribadisce la sua visione del mondo abbiamo fatto bene se non c'è stato il miracolo nell'anno e mezzo passato per qualche destino cinico e varo perché la commissione non ci ha permesso di spendere abbastanza le colpe sono tutte della commissione le ingiustizie sociali le debolezze italiane si risolveranno con maggiore distribuzione a debito come hai appena come hai appena sottolineato e poi pare che questa sia cosa dicono i russi sì esatto per quanto riguarda tutti i dettagli loro hanno l'ultima parola ce l'hanno i russi con la loro vodka però insomma teniamo presente l'ideale di diventare un paese come la Russia cioè con una speranza di vita a 65 anni per gli uomini dici con stragi di gente che beve degli alcolici al metanolo capito problemi cardiocircolatori dediti al turismo alla produzione di un po' di prodotti alimentari guarda però la Russia la Russia la Russia sto scherzando no no però la Russia ha la Dutch disease che noi non possiamo permetterci di avere nel senso che loro hanno petrolio gas naturale quindi hanno questa malattia che gli permette di vivere abbastanza bene rispetto alla catastrofe demografica che loro hanno in corso noi non so fino a che punto col turismo che come tu sai il nostro petrolio appunto era quello che faccio l'ironia esatto noi con il turismo cercheremo di contrastare il nostro collasso demografico non lo so questa affascinazione per la Russia comunque me la devono spiegare perché se vuoi avere come punto di riferimento un paese che sta morendo probabilmente la Russia è il modello esatto infatti anche anche l'Italia sta morendo quindi forse c'è un'affinità tanatologica va beh senti Mario su questa salutiamo Luciano siamo ritornati al nostro pessimismo si 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 ti abbraccio grazie ciao alla prossima ciao ciao ciao